Yo homies, eccoci qua su Voxel Runner Ci manca solo un stage, siamo a 29, manca solo un stage per completare questo gioco stramaledetto che mi sta facendo davvero incavolare davvero 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 molto Non ho sei cantato il disco, sono io che l'ho fatto, ho gli effetti speciali dentro di me, cavolo Vai, vai homino, oggi non farmi, per favore, è tutto perfetto oggi Lo so che questo livello l'ho già fatto, voglio cercare di rifarlo in un modo molto più bellino del solito, eh Vediamo se ce la faccio, se mi ricordo un po' com'era la situazione qua, però adesso sta andando tutto bene, direi Mai parlare prima quando succedono le cose Ho solo iniziato, appena iniziate già mi sto arrabbiando Già sento il nervoso che mi sta salendo, già adesso, giuro Qua, che sta succedendo, che sta succedendo qua Cioè, ma non è vero, io non mi sono alzato, giuro, no Oggi, oggi, niente mi farà perdere la calma Oggi sono la calma in persona, sono oggi Sempre col sorriso in mezzo Dostor colmo 209 Sono morto solo 209 volte Si, dico che è solo perché c'è di peggio Io non so, ah, e Devo stare molto molto calmo, ho prurito il naso e non mi posso neanche grattare, cavolo Ciò che dico Fuck Diamo la colpa al naso Mio No, com'era, 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 com'era Vai, vai, vai Ninja Ninja, non ci tieni a essere chiamato Umi Eh, eh? Non ci tieni a essere chiamato Umi Eh, eh? Non ci tieni a essere chiamato Umi Eh, eh? Oggi sono molto ripetitivo Molto Che cavolo sta succedendo? Sono davvero molto concentrato oggi Non so che cavolo c'è che non va Io non lo so Schiaccio fisso i bottoni sbagliati, cavolo Oh Così si fa, cavolo Poi sei un ninja, amico C'è Certe cose le devi riuscire anche a fare da so Che cavolo Ora stiamo esagerando, però Oh Che cos'è successo? Cos'è? Cosa sta succedendo? Perché sta scoppiando il mondo? Cosa devono essere, fuochi d'artificio? Una specie di fuochi d'artificio? Una specie di fuochi d'artificio? Una specie di fuochi d'artificio? Sì, che ora si fa così, cavolo Così, 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 così Vieni qua, vai Non riesco a smettere, non riesco a smettere, non riesco a smettere La gente mi sta guardando in un modo molto strano ma non ci riesco, non ci riesco Mi fanno male un po' le palline, cavolo Che succede adesso? Non succede niente Almeno ho completato anche questo gioco Oh, mi sa Mi fanno male le palline, cavolo, l'ho fatto per tanto tempo, per voi è tagliato, me l'ho fatto per tanto tempo Hanno sbattuto così, fa male Comunque Spero che vi è piaciuta questa piccola miniserie Di uno dei giochi che mi ha fatto incavolare davvero molto Come prossimo gioco Super Meat Boy Che lo avete chiesto già tanto tempo fa Me lo son comprato E ora mi aspetta Meat Boy F